Il mondo bancario finanziario sta vivendo in questi anni una vera e propria irruzione delle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale, la blockchain, i big data hanno messo a repentaglio il sistema tradizionale fatto di banche e assicurazioni e hanno permesso l'ingresso di nuovi operatori tecnologici. Di fronte a questo scenario un gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, il ROFIEG, ha predisposto un rapporto e ha fissato 30 suggerimenti e raccomandazioni a cui si deve ispirare la Commissione europea per l'emanazione di nuove regole in materia di innovazione e finanza. Sono regole semplici, trasversali, che si occupano e affrontano i principali nuclei problematici che la tecnologia porta con sé. Regole che vogliono rendere più trasparenti le nuove opportunità e i nuovi rischi, consentendo così alla tecnologia di produrre i suoi effetti positivi, primo fra tutti una maggiore inclusione finanziaria, senza però esacerbare i rischi che la tecnologia porta con sé, dal punto di vista dello sfruttamento dei dati, dal punto di vista della cyber security e dal punto di vista della opacità che gli algoritmi e l'intelligenza artificiale portano dietro. La presentazione italiana dei contenuti di questo rapporto è organizzata in Università Cattolica insieme con la Commissione europea. Parteciperanno Mario Nava, direttore di Digifisma, Philip Petsch, che è il chair dell'Expert Group e poi seguirà una tavola rotonda nella quale si discuteranno i contenuti del rapporto con rappresentanti del mondo bancario e finanziario. Grazie a tutti.